Persi. Le cose andarono subito per il verso sbagliato. I giganti svanirono in due sbuffi di fumo gemelli. Riapparvero in mezzo alla stanza, ciascuno in un punto diverso. Persi scattò verso i fialte, ma sul pavimento comparvero delle aperture, e pareti di metallo spuntarono all'improvviso su entrambi i lati, isolandolo dagli amici. Le pareti cominciarono a stringersi come una pinza da idraulico. Persi saltò verso l'alto e si agganciò al fondo della gabbia dell'Hidra. Intravide Piper, che balzava su una serie di fosse ardenti disposte a campana avanzando in direzione di Nico, che era stordito, disarmato e puntato da un paio di leopardi. Nel frattempo, Jason attaccava Otto, che strasse la propria lancia con un profondo sospiro, come se avesse preferito di gran lunga danzare il Lago dei Cigni, piuttosto che uccidere un altro semidio. Persi registrò tutto in una frazione di secondo, ma non poteva farci granché. L'Hidra tentò di mordergli le mani. Lui oscillò e cadde, atterrando in un boschetto di alberi di compensato spuntato fuori dal nulla. Gli alberi cambiavano posizione mentre lui tentava di avanzare, per cui abbatté tutta la foresta con vortice. «Meraviglioso!» gridò i fialte. Si trovava al pannello di controllo, a una quindicina di metri alla sinistra di Persi. «La considereremo una prova in costume! Devo liberare l'Hidra sulla scalinata di Piazza di Spagna?» Il gigante tirò una leva. Persi lanciò un'occhiata alle proprie spalle. La gabbia a cui si era appeso poco prima stava salendo verso una botola nel soffitto. Nel giro di tre secondi sarebbe sparita. Se lui avesse attaccato il gigante, l'Hidra avrebbe devastato la città. Imprecando, lanciò vortice come un boomerang. La spada non era stata progettata a quello scopo, ma la lama di bronzo celeste tagliò in due le catene a cui era attaccata l'Hidra. La gabbia cadde su un fianco, la porta si aprì e il mostro si riversò fuori, proprio davanti a Persi. «Oh, allora sei davvero un guastafeste, Jackson!» gridò i fialte. «Benissimo! Combatti qui se ci tieni tanto, ma la tua morte non sarà bella come avrebbe potuto essere senza la folla acclamante!» Persi avanzò per affrontare il mostro, poi si rese conto di aver appena gettato via l'arma. Rotolò di lato, mentre l'Hidra sputtava acido da tutte e otto le teste, trasformando in un cratere fumante di roccia fusa il punto in cui il semidio si trovava poco prima. «Santi Numi, quanto detestava le Hidre!» pensò Persi. Era quasi una fortuna che non avesse più la spada, perché d'istinto avrebbe colpito le teste, e il mostro non avrebbe fatto altro che farsene spuntare due nuove per ognuna che perdeva. L'ultima volta che aveva affrontato un Hidra era stato salvato da una corazzata armata di cannoni di bronzo che l'aveva mandata in mille pezzi. Una strategia che nell'ipogeo non poteva funzionare, o forse sì. L'Hidra cominciò a menare colpi alla cieca. Persi la scansò, infilandosi dietro una ruota da criceto gigante, e perlustrò la stanza, cercando le scatole che aveva visto in sogno. Ricordava di avere scorto dei lanciarazzi da qualche parte. Sulla pedana, Piper sorvegliava Nico mentre i leopardi avanzavano. Puntò la cornucopia e sparò del brasato sulle teste dei felini. Doveva avere un bel profumino, visto che i leopardi vi si fiondarono sopra. A meno di trenta metri sulla destra di Piper, Jason combatteva contro Otto, spada contro lancia. Otto aveva perso la tiara di brillanti e sembrava arrabbiato. Probabilmente avrebbe potuto trafiggere Jason diverse volte, ma insisteva a fare una piruetta a ogni attacco, e ciò lo rallentava parecchio. Nel frattempo, Ephialte rideva, premendo i pulsanti sul pannello di controllo per innescare i nastri trasportatori e aprire le gabbie degli animali. L'idra andò alla carica contro la ruota da criceto. Persi si gettò dietro una colonna, afferrò un sacco della spazzatura pieno di pane e lo lanciò contro il mostro. L'idra sputò acido, ma fu un errore. Il sacco e gli incarti si dissolsero a mezz'aria. Il pane americano assorbì l'acido come la schiuma di un estintore e schizzò contro l'idra, ricoprendola con uno strato appiccicoso e fumante, di una sostanza velenosa e altamente calorica. Mentre il mostro vacillava, scuotendo le teste e sbattendo le palpebre per togliersi l'acido dagli occhi, Persi si guardò intorno disperato. Non vide le scatole dei lanciarazzi, ma contro la parete in fondo c'era uno strano geggio simile al cavalletto di un pittore, dotato di file di lanciamissili. Persi notò un bazooka, un lanciabombe, una fila di quei razzi pirotecnici noti come candele romane e una dozzina di altre armi pericolose. Sembravano tutte legate insieme, puntate nella stessa direzione e collegate a un'unica leva laterale di bronzo. In cima al cavalletto, scritte in rosa, c'erano le parole «Felice distruzione, Roma». Si precipitò verso il marchigegno. L'idra si bilò e lo seguì come una furia. «Trovato!» gridò i fialte allegramente. «Possiamo cominciare con le esplosioni sulla via labicana. Non possiamo fare aspettare il nostro pubblico in eterno». Persi andò carponi dietro il cavalletto e lo girò verso i fialte. Non era bravo come Leo con i macchinari, ma sapeva come puntare un'arma. L'idra si scagliò in avanti, bloccandogli la visuale sul gigante. Persi sperò che quell'aggeggio avesse abbastanza potenza di fuoco da battere due obiettivi in un colpo solo. Tirò la leva, che però non si mosse. Tutte e otto le teste dell'idra erano ormai sopra di lui, pronte a liquefarlo in una pozza di fango. Persi tirò di nuovo la leva. Stavolta il cavalletto tremò e le armi cominciarono a similare. «Via! Mettetevi al riparo!» gridò, sperando che gli amici afferrassero il concetto. Poi schizzò via di lato, mentre il cavalletto faceva fuoco. Sembrò il chiasso di una festa di paese unito all'esplosione di una fabbrica di polvere da sparo. L'idra si disintegrò all'istante. Purtroppo il rinculo fece inclinare il cavalletto che sparò altri proiettili in giro per la stanza. Una parte del soffitto crollò, schiacciando una ruota idraulica. Altre gabbie si staccarono dalle catene, liberando due zebre e un branco di iene. Una grata esplose sopra la testa di Efialte, con l'unico risultato di fargli perdere l'equilibrio. Il pannello di controllo non sembrava neanche danneggiato. Dall'altra parte della stanza, Piper e Nico erano sotto una pioggia di sacchi di sabbia. Lei tentò di mettere in salvo il figlio di Ade, ma uno dei sacchi la colpì su una spalla, scaraventandola a terra. «Piper!» gridò Jason. Corse da lei, dimenticandosi completamente di Otto, che puntò la lancia verso la sua schiena. «Attento!» urlò Percy. Jason aveva i riflessi pronti. Mentre Otto scagliava la lancia, lui rotolò a terra e cambiò la traiettoria dell'arma, evocando una raffica di vento. La lancia volò dall'altra parte della stanza e trafisse Efialte su un fianco, proprio mentre il gigante si stava rimettendo in piedi. «Oto!» barcollando, Efialte si allontanò dal pannello di controllo e afferrò la lancia, mentre cominciava a sgretolarsi in polvere di mostro. «La vuoi piantare di farmi fuori, per favore? Non è colpa mia!» Otto aveva appena concluso la frase, quando l'aggeggio lanciamissili di Percy sputò un'ultima candela romana, che colpì il soffitto sopra la testa del gigante ed esplose in una splendida pioggia di luce. Scintille colorate piroettarono con grazia intorno a Otto. Poi una porzione di tetto di tre metri crollò, spiaccicandolo a terra. Jason corse accanto a Piper, che gridò quando lui le sfiorò il braccio. Aveva una spalla piegata in modo innaturale, ma mormorò comunque «Tutto bene! Sto bene!». Seduto accanto a lei, Nico si guardava intorno esterrefatto, come se si fosse appena reso conto di essersi perso una battaglia. Purtroppo i giganti non avevano ancora finito e Fialte si stava già riformando, la testa e le spalle emersero dal mucchio di polvere. Il gigante diede uno strattone per liberare le braccia e guardò persi in cagnesco. Dall'altra parte della stanza la catasta di macerie si mosse e Otto schizzò fuori. Aveva la testa leggermente incavata e le trecce fumanti, perché tutti i petardi tra i capelli erano esplosi. La tutina da ballerino era a brandelli. «Persi i comandi!» gridò Jason. Il figlio di Poseidoni si sbloccò. Trovò vortice di nuovo in tasca, stappò la spada e si lanciò verso il quadro di comando. Menò un fendente sulla parte superiore del quadro, decapitandolo in una pioggia di scintille color bronzo. «No!» gemette Fialte. «Mai rovinato lo spettacolo!» Persi si girò troppo lentamente e Fialte roteò l'asta della lancia come una mazza e lo colpì in pieno petto, facendolo crollare in ginocchio. Il dolore fu come un fiume di lava nello stomaco. Jason si precipitò al suo fianco, ma Otto lo seguì a passi pesanti. Persi riuscì ad alzarsi e si ritrovò spalla a spalla con Jason. Accanto alla pedana, Piper era ancora a terra, incapace di alzarsi. Nico era malapena cosciente. I giganti si stavano riprendendo e diventavano più forti ogni minuto che passava. Nei Fialte sorrise, come per scusarsi. «Stanco, Percy Jackson, come ti ho già detto, non puoi ucciderci. Per cui direi che ci troviamo in una situazione senza via d'uscita. Oh, aspetta! Ma no, certo! Perché noi possiamo uccidervi!» «Questa è la prima cosa sensata che hai detto in tutto il giorno, fratello», bofonchioto, raccogliendo da terra la lancia. I giganti puntarono le armi, pronti a trasformare Persi e Jason in due kebab semidivini. «Non ci arrenderemo», ringhiò Jason. «Vi faremo a pezzi, come Giove ha fatto con Saturno». «Siete morti», disse Persi, «con o senza l'aiuto di un dio». «Beh, peccato», disse una nuova voce. Dal soffitto calò un'altra piattaforma. Appoggiato con disinvoltura su un bastone con una pigna in cima, c'era un uomo con una maglietta viola, pantaloncini color kaki e un paio di sandali con i calzini bianchi. Sollevò il cappello a tesa larga e un fuoco violaceo gli guizzò negli occhi. «Mi dispiacerebbe aver fatto un viaggio a vuoto». Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A meccano. Saudita a di essizione dellechine. A meccano baja transact맞ità sono una cosa organisations. Perché dellespotese karate. Ma è la mano.